Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Vitello delle ande? No, bovino della gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché In cantina non ci vengo mai Bello questo vino Vino di una volta Fa' assaggiare un gocciottino Ma che bontà, ma che bontà Ma che cosa che è questa robina qua Ma che bontà, ma che bontà Ma che gustino questa roba qua Ma che bontà, ma che bontà Ma che cos'è questa robina qua Ma che bontà, ma che bontà Ma che gustino questa roba qua Parolo delle langhe? No Aleatico dell'elba? No Ma che cosa sarà mai questa rovina qua? Ma perché? Come mai? Ma perché? In gelateria non ci entro mai Che cioccolato Dammi un cucchiaino Fai assagiere un pochettino Ma che bontà Ma che bontà Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà Ma che gostino questa robina qua? Ma che bontà Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà Ma che gostino questa robina qua? Cioccolato svizzero? No Cacao della Bolivia? No Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca Grazie a tutti.